Concessioni balneari, altro giro, altra proroga. Il via libera del Senato da alcuni emendamenti presentati al decreto mille proroghe e approvati prevedono appunto la proroga di un anno della scadenza delle concessioni, quindi fino al 31 dicembre 2024 e cinque mesi in più di tempo per regolare le gare istituendo un tavolo per la mappatura delle spiagge che altrimenti scadrebbe il 27 febbraio 2023. Si tratta di un doppio aggiustamento accolto positivamente dalle associazioni di categoria anche se poi il punto fondamentale rimane come scrivere i decreti attuativi per il rilascio delle concessioni. Riccardo Padovano del Sibconf Commercio. Si è detto che va riconosciuto un indennizzo ai vecchi concessionali, si è detto la premialità, si è detto un sacco di cose ma non possono essere notizie di giornali, devono essere notizie poi trascritte su norme che poi queste norme devono essere anche condiviste dalla comunità europea. Quando si parla di mappatura, si parla di scarsità delle spiagge, cito solo un fatto, in Abruzzo abbiamo 140 chilometri di costa, 33 chilometri sono occupati agli stabilimenti banaliari, ulteriori 100 chilometri valorizziamo, togliamo le riserve, togliamo i porti, 50 chilometri di spazi da utilizzare, forse se ci mettiamo a lavorare daremo sicuramente altre imprese, altre attività, altri giovani che si vogliono, che vogliono intraprendere, che vanno a valorizzare quelle aree che vengono frequentate da bagnanti senza servizi. Sull'importanza della mappatura insiste anche la CNA, sentiamo Gabriele Merchese. Noi facendo questo dovremmo dimostrare e disattivare la direttiva Bolkstein che ci permette di dare nuove concessioni e tutelare sostanzialmente le 30 mila imprese e i lavoratori che attualmente vivono e lavorano all'interno di questo comparto. Fragionamento più che plausibile, ma non si corre il rischio di stressare il rapporto con l'Europa che potrebbe ad esempio sanzionare l'Italia come è già accaduto al Portogallo? La Spagna l'ha avuta l'infrazione? Ecco allora ci sono tante questioni, tre nazioni in Europa hanno le tipicità che abbiamo noi, l'Italia è la leader, poi c'è la Spagna e poi c'è il Portogallo. Intanto incominciamo a dialogare e abbiamo dimostrato, hanno dimostrato alla comunità europea che l'Italia vuole dialogare e non vuole fare le guerre. Altro tema caldo, i canoni. La Corte dei Conti ha già detto che non sono proporzionati ai fatturati dei concessionari. Naturalmente un conto è dire io ti esproprio della titolarità di un bene che tu hai costruito nel corso degli anni. Un altro conto è dire discutiamo rispetto al prezzo che è alla concessione che mi devi pagare nei confronti dello Stato. Noi siamo disponibili a discutere, a confrontarci nel merito rispetto a queste esigenze. Infine le spiagge libere, che fine faranno? Rimarranno tali o verranno fagocitate da nuove concessioni? Ancora Marchese. Noi riteniamo che facendo la mappatura si può mantenere il giusto equilibrio tra la spiaggia in concessione e la spiaggia libera perché va tutelato il diritto di chi non vuole andare in uno stabilimento balneare, vuole andare a sdraiarsi in una spiaggia libera e quindi non avere vincoli nessuna natura.